Bruciare ogni fuso, di attarne il possesso, proibire l'usco. Ci sarà sempre una orticina aperta, una vecchina che fila, una scoperta. Perché ognuno di noi va a cercare delle storie? Che cosa succede quando ognuno di noi, indipendentemente dalla sua età, si lascia catturare da una storia? Nella carrozza, sotto la luna, delle due scarpe, solo una. Vanno e vengono a pezzi interi, vengono e vanno pensieri neri. Mai da voi parole tenere, mai da voi altro che cenere. Né pazienza, né calore, braccia è accesa il mio valore. Solo adesso so chi sono.